Messico, Mondiale 1970, la partita più bella di tutti i tempi, Italia-Germania 4-3, la Germania ci ha raggiunto alla fine dei tempi regolamentari, poi è andata avanti, poi è stata superata di nuovo, adesso attacca per cercare il pareggio, il 3-3, il pallone arriva in area di rigore e lo colpisce Gerd Müller, una delle punti più forti di tutti i tempi, Rivera è sul palo, ce la deve fare, la deve prendere, la può prendere, deve solo fare un movimento per riuscire a respingere il pallone, ma non lo fa, si imbrana sul palo e la palla entra, ma come Rivera, Rivera, quello che ha lottato per il posto con Mazzola, quello che poi farà scoppiare il putiferio dei famosi 6 minuti della staffetta della finale, Rivera che fa un errore del genere, no, Rivera è un campione, quando si mette la palla al centro, Rivera va in attacco, va dall'altra parte e quando arriva a un cross, batte un rigore in movimento e la mette in porta, aveva sbagliato 30 secondi prima, segna il gol decisivo 30 secondi dopo, perché i campioni cambiano il destino, racconta una storia a tuo figlio, diventerà leggenda.